Musica Grazie si vuole essere un mistero di sceglia di un qr quando si fa delle sceglia di contenuti ma allora non si fa delle nostre sceglia non si fa delle sceglia di sceglia veramente di quelle quelle persone che ci cassa e che non ci fanno le sceglia ma non si fa delle sceglia di sceglia che non ci dovessi poter vedere le sceglia un tubetto è anche uno colore qui mi ha detto essere sempre geni non si sa per le sceglia di quanto si fa delle sceglia e è la prima di espressione Grazie a tutti 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 Vai Luigi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buona Grazie a tutti Vai Vai Buona! Vai Luigi! Alza la guardia! Bravo! Esci dall'angolo! Sotto Gigi! Metti i montanti a vuoto! Sotto Gigi! Sotto Gigi! Luigi! 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 Sotto Gigi! Si è scaricato il pianeta! Non c'è la macchinetta! Sotto Gigi! È un'epoca di avvicinarsi a un tavolo di La Giulia! Sotto Gigi! Francesco Enzi al tavolo di Maggiù tra i punti vince angolo adesso Vadoviti Luigi voglio compagliare io questo incontro perché è stato veramente un bellissimo incontro molto comodato bravi ragazzi bravi avete fatto un bellissimo incontro facciamo un applauso a questi due ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti